La Commissione Interdipartimentale della Presidenza della Regione Siciliana ha valutato positivamente la strategia di sviluppo urbano sostenibile delle città di Gela e Vittoria. La coerenza esterna, la coerenza interna, l'efficacia e la sostenibilità della proposta sono risultati ampiamente soddisfacenti, si legge nella nota inviata ai comuni, considerati i contenuti del documento, la metodologia adottata e la chiarezza nell'espressione della logica di intervento. L'esito della valutazione è stato accolto con grande soddisfazione dai sindaci di Gela e Vittoria. Domenico Messinese e Giovanni Moscato hanno annunciato un incontro pubblico per illustrare la strategia di sviluppo urbano sostenibile. Nell'ambito dell'attuazione del programma operativo regionale FESD 2014-2020, i comuni di Gela e Vittoria godono di una riserva finanziaria di circa 36 milioni di euro su quattro obiettivi tematici. Grazie a tutti!